Oggi è giorno di visite. Sua moglie e suo figlio verranno a trovarlo. Oh, che emozione! Falli entrare. Che bello! La mia famiglia è qui, tesoro! È da tanto che non ci vediamo, come stai? Come stai? Bene. Figliolo, sei dimagrito? Cosa? Papino, papino! So che hai fatto una cosa molto cattiva e molto brutta. Hai estorto il denaro alle persone e ora sei in prigione. Ma qui capirai i tuoi errori, papà. E quando uscirai, sarai una persona nuova. Ma quando ti guarderai indietro dirai sono felice di essere finito in questa prigione. Mi ha salvato la vita, mi sembra di essere rinato. È ciò che le persone diranno del nostro penitenziario. E sai perché? Perché questa è una struttura unica nel suo genere. Hai capito? Quando uscirai di qui, sentirai di essere rinato. Sarai il più grande d'Europa. Tutto chiaro? Mi hai capito? Ho capito. Mi hai capito?